La Raymo riesce a tirare in porta! È un tiro dalla distanza di un certo dopo aver attirato la Ogre nella propria metacampo! Presa voltaico! Traffica micidiale! Mano di luce! Fermiamolo! Sì! 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 Lancia micidiale! Oh no! Questa volta ce la farò! Apporarlo! Mano del Colosso! Ora vi farò vedere di cosa sono capace! Ruggito della tigre! Tu Axel! Fiammata Suprema! Sbalorditivo! Questo è un tiro combinato che ha fuso il ruggito della tigre con la Fiammata Suprema! Presa voltaico! Siete grandi! Bravi! Ed è gol! La Raimona è finalmente riuscita a violare la porta della Ogre! Gabbia elettrica! Perfetto! Babbia elettrica! Aaaaaaah! Candonata ofante! Fai! Babbia elettrica! Gol! La Raimona riesce a parentiore! No! 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 Alta tensione! Bisnonno! Non è finita! Ora basta! Non ci arrenderemo mai! Attacco volante! Andiamo, ragazzi! L'attacco volante! Sei riuscito a fermare la lancia micidiale! Io continuo a crederci! Credo nel calcio del mio bisnonno! Sì, anche noi! È questo ciò che ci unisce! Già, il motivo è semplice! Il carcere di tutti! Che forza! Arriviamo! Meteora di rompente! Alta tensione! Alta tensione! Alta tensione! Alta tensione! Non accetterò la sconfitta Triangolo Micidiale Mark Evans, rinuncia al calcio! O ti annienterò! Mark! Capitano! Attento! Bellsdotto! No, mi dispiace, non intendo rinunciare al calcio Finché avrò così tanti amici che amano questo sport Io non lo lascerò mai e poi mai! E arriverà nel futuro! Ma no, Omega! Omega! Deppermelo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!